Ciao a tutti, eccolo qua, Harry Potter e i doni della morte parte 2 cioè Harry Potter e i doni della morte parte 2 per combattere la guerra di Ogwa ma domani farò combattere Harry Potter e Satana, l'origine del male parte 1 e parte 2 si si ispiriamo per sconfiggere Voldemort, Harry Potter e Satana deve prima distruggere Ogwa di Signore Oscuro della politica che ha detto finalmente all'alima di Voldemort ora Voldemort possiede la bacchetta di Shabu con l'alima di Harry Potter e Satana ancora di più per l'ottura unci unci, devo penetrare alla Gringo in una camera blindata è impossibile da solo, sì con te, no la spada di Grifondoro è il mio prezzo unci, unci, staremo sotto il mantello dell'invisibilità c'è un Horcrux nella camera blindata dei Restridge troviamolo, e siamo a passo dalla fine di dosaggi Sessione, come lo distruggiamo se diamo la spada di Grifondoro a unci, unci altrimenti non ci aiuta che comunque non ha la spada per ora pronto la porzione non durerà in me spero che Harry sappia quello che fa signore Lestrange cosa posso fare per lei oggi? vorrei accedere alla camera blindata potrebbe mostrarmi la sua bacchetta? e perché dovrei farlo? sanno che può esserci un posto sono stati aperti imperio ma è una brana se vuole seguirmi cosa? io vado dovevo immaginarlo unci, unci, che cos'è? è il mio sbozzo, l'ho comprato di Agnew imperio oh, arriverà combattiamo seguire le leone prendi il posento R per seguirti intorno non ero mai disceso così eccolo qua prendi frutta per sapere dov'era si, a seconda fosse sembrava grossa grossa è abbamata mettiti i cederi vicino le relazioni visitarie del Manzani Harry, dobbiamo superare quelle quattro ahah, l'ho compito se vogliamo procedere nella greenwood dovremo andare da questa parte non posso crederci ci sono già delle guardie che cos'ha questa porta? sembra che ci sia una specie di incantesimo di chiusura niente paura me ne occupo io a l'uomora cos'è questo rumore? è un carrello pieno di guardia presto nascondiamoci prima che ci vedano scusate ho una salute che avevo fatto una golla piccola Grazie.